Musica Sassano, due rumeni arrestati per violenza sessuale e losioni corporee. Palinuro, la guardia costiera sequestra 4 kg di corallo trafugati illegalmente dalla Grotta Azzurra. Polla, partite lettere di licenziamento per 34 dipendenti della Ergon. Buon abitacolo, questa mattina la presentazione dell'iniziativa Questa è la terra e dell'opuscolo pubblicitario dei prodotti in promozione ad Expo 2015. Teggiano, la festa di San Cono ripresa dalla webcam e visibile in streaming. Un cordiale bentrovati ai nostri gentili spettatori. L'edizione serale di Quelle delle Uno News si apre con la cronaca. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno arrestato due giovani rumeni per il reato di violenza sessuale e lesioni corporee a danno di una cittadina del Vallo di Diano. Proseguono le attività della compagnia dei carabinieri di Sala Consilina guidati dal capitano Emanuele Corda. I militari questa mattina hanno tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, due fratelli rumeni di 25 e 23 anni. I due giovani sono accusati di violenza sessuale e lesioni personali. A seguito di accurate indagini condotte dai militari della stazione locale di Sassano, i due rumeni, tra il giugno e il settembre del 2014, sono stati responsabili separatamente per ben tre volte di abusi sessuali nei confronti di una donna del Vallo di Diano, che in due occasioni ha anche riportato ferite corporee. Gli episodi spiacevoli a danno della malcapitata si sono verificati, come recita la nota ufficiale dei carabinieri, sia nel centro storico di Sassano, in pubblica via, che nelle abitazioni di uno degli aguzzini e della vittima. Come rivelato dalle indagini, per entrare in casa della vittima, uno dei due fratelli rumeni ruppe una finestra di vetro per accedere all'interno della casa e abusare della donna. I due, al momento, si trovano presso la casa circondariale di Sala Consilina, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Lago Negro. E ancora cronaca, la guardia costiera ha sfermato un uomo trovato in possesso di 4 kg di corallo, trafugati illegalmente dalla grotta azzurra. Maxi sequestro di corallo a Palinuro. La guardia costiera ha effettuato nella giornata di ieri un sequestro di 4 kg di corallo rosso, prelevato dalla grotta azzurra di Capo Palinuro. Le indagini sono partite dopo segnalazioni di movimenti sospetti da parte di un uomo che era solito, recentemente, affittare un gommone, sempre in tarda sera, per effettuare escursioni. Ieri mattina, l'uomo, già monitorato dal guardia costa da diversi giorni, dopo aver locato il gommone, è partito con la sua attrezzatura da sub, depitamente dotato anche di un motosub che permette la risalita veloce e con altri attrezzi destinati al taglio del corallo presente sul fondale della grotta azzurra. Al momento giusto le giubbe bianche sono intervenute ed hanno effettuato il blitz. Inizialmente ben occultato, l'uomo, alla vista degli uomini della guardia costiera, ha presentato segni evidenti di nervosismo, cercando di nascondere il reato che poi ha ammesso, mostrando anche dove era nascosto il corallo, illecitamente trafugato dalla grotta. Un bottino che una volta emesso sul mercato avrebbe fruttato circa 15.000 euro. Il corallo, immediatamente sequestrato, molto probabilmente è stato pescato ad oltre 50 metri di profondità, avvalendosi di attrezzature di ultima tecnologia e che avrebbe permesso, una volta portato in superficie, di farne migliaia di gioielli. Sotto sequestro anche tutta l'attrezzatura subacquea per un valore di circa 20.000 euro. Il sub, multato e deferito, aveva portato con sé addirittura uno scooter subacqueo per potersi muovere con maggiore velocità sott'acqua. L'operazione, posta in esse dalla guardia costiera, ha una premessa importante, preservare l'ambiente marino ed il suo ecosistema. La grotta di Capo Palinuro, già in diverse altre occasioni, è stata predda di furti e di tentativi di reati per le numerose specie presenti. Resta però anche un luogo estremamente pericoloso dove nel passato si sono verificate decessi da parte di avventurieri che tentavano di danneggiarne l'ambiente. E rientriamo nel Vallo di Diano. Cattive notizie per 34 operai della Ergon che già in cassa integrazione, in deroga da un anno e mezzo, sono a rischio licenziamento. La procedura attivata dal commissario liquidatore però non è stata ancora ufficialmente comunicata al custode giudiziario del consorzio di Bacino Salerno 3, Vittorio Esposito. Non arrivano buone notizie per 34 dipendenti della Ergon di Polla, già cassa integrati da circa un anno e mezzo, per i quali sono partite le lettere di licenziamento. L'azione è partita nonostante sia stato convocato d'urgenza su richiesta della CGL un tavolo tecnico con tutti i protagonisti istituzionali, la provincia, il commissario liquidatore e il custode giudiziario del consorzio di Bacino Salerno 3, Vittorio Esposito. Nel corso del tavolo tecnico, secondo il sindacato, il liquidatore della Ergon si era anche impegnato a produrre un piano tecnico operativo per la riattivazione dell'impianto di selezione e stoccaggio ubicato a Polla, che andrebbe a servire i 45 comuni nei territori del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, costituenti il consorzio di Bacino Salerno 3. Ieri intanto il neocommissario Vittorio Esposito, intervenuto a Radio Alfa, ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'iniziativa ed evidentemente assunta dal liquidatore e di cui si farà chiarezza. È una manovra avventata che dovrò verificare, dato che non mi è arrivata, nessuna comunicazione ufficiale circa le lettere di licenziamento. Esordisce così Esposito che poi aggiunge, agli operai dico di avere fiducia perché i nostri sforzi sono orientati a risolvere al meglio la questione. Il mio obiettivo è tutelare i posti di lavoro. Sulle decisioni assunte da altri soggetti con glu desposito discuteremo nell'immediato anche con il presidente della provincia, Giuseppe Canfora. E adesso la sanità grande affluenza dal Vallo di Diano e non solo, ma da tutta la provincia a sud di Salerno per la giornata di prevenzione gratuita del tumore al fegato che si è svolta sabato scorso presso l'ospedale Luigi Curto di Polla. Nel prossimo servizio tracciamo un bilancio della iniziativa. Si è tenuta lo scorso sabato la giornata dedicata alla prevenzione gratuita dei tumori al fegato. Tantissime le persone che si sono sottoposte a visite specialistiche ed ecografie effettuate dai dottori Massimo Di Palma e Vincenzo Jovino presso gli ambulatori dell'ospedale Luigi Curto di Polla. A qualche giorno di distanza è possibile tracciare un bilancio della giornata di prevenzione che ha registrato numeri importanti se si considerano che sono state effettuate ben 105 visite specialistiche e 104 ecografie a persone provenienti da tutto il Salernitano e non solo a corse per partecipare all'iniziativa senza bisogno di prenotazione e senza impegnativa del medico curante. Entrando più nel dettaglio, 14 le persone provenienti da Sala Consilina, 12 da Polla, 11 da Atena Lucana, 8 da Sassano e Teggiano. Ma quello che più risalta all'occhio sono le presenze, anche se si tratta di poche unità, di persone provenienti addirittura da Salerno, Capaccio, Eboli, Battipaglia e Brienza, quest'ultima in provincia di Potenza. Solo a 26 pazienti visitati sono stati riscontrati problemi epatici che gli stessi non sapevano di avere. Quest'ultimo dato ci fa riflettere in maniera significativa sull'importanza della prevenzione. Il 30% circa dei pazienti visitati non era a conoscenza di problemi che, se non curati in tempo, potevano procurare gravi conseguenze per la loro salute. E restiamo in tema domani, 28 maggio a Torraca, si terrà un corso di integrazione delle professioni sanitarie in piscina e a bordo basca, diviso in due fasi, la prima teorica ed una seconda pratica, la prima che si svolgerà presso l'auditorium comunale e mentre la seconda presso la piscina comunale. Ad organizzare l'evento, Gennaro Falabella, direttore scientifico del corso, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Questo passo è stato organizzato, dopo aver visitato, nasce naturalmente da un'idea del sottoscritto. Dopo aver visitato e frequentato l'esterno invernale la struttura sportiva di Torraca, considerandola un eccellente complesso, ha pensato di considerare la sua potenzialità, la potenzialità della struttura. Mi sono posto come obiettivo, quindi mi sono dato una sfida proprio nell'organizzare un evento integrando le diverse figure professionali sanitarie, che le stesse poi sono protagoniste del progetto. Il corso, che è un corso teorico pratico, quindi ha una prima parte teorica e poi pratica, si pone proprio come obiettivo l'integrazione delle competenze infermieristiche, le competenze ospedriche e le competenze riabilitative in questo particolare contesto che la piscina, quindi l'acqua come elemento naturale, è fondamentale. Questo scenario è proposto in un'ottica quindi di riabilitativo assistenziale, sottolineando la differenza tra il vero esercizio fisico ed esercizio terapeutico. Poi il corso, come le dicevo poc'anzi, è caratterizzato da tre sessioni. C'è una prima sezione, io leggo un pochettino il programma, che è l'integrazione delle competenze. Quindi io stesso parlerò delle figure professionali e in che modo possono integrarsi in questo contesto di piscina, quindi in questo contesto d'acqua. In questa prima sezione abbiamo una seconda sezione che si parlerà di interventistica ortopedica, quindi il recupero in acqua e la necessaria riabilitazione. Trattata poi da fisioterapisti. Per integrare anche le ostetriche abbiamo pensato di inserire delle professionalità per trattare l'acquaticità in gravidanza. E poi il parto in acqua, nuove prospettive per la salute delle donne e del bambino. Poi si conclude con la sintrome di annegamento, quindi un'evenienza che può tra i rischi sovrapporsi nelle attività in piscina, quindi attività nell'acqua. E poi una terza parte che è pratica, che svolta direttamente all'interno della piscina. La prima parte noi la facciamo nell'auditormi, quindi nella sala polifunzionale di Torraga. La seconda invece direttamente in piscina. E quindi parleremo dell'utilizzo del desibrillatore semiautomatico a bordo vasta. Poi ci saranno degli esercizi in acqua con le gravide, cioè delle donne gravide che si sono offerte per effettuare degli esercizi naturalmente sotto la guida di una professionista che è la Carmen Muccione. Poi abbiamo altre dimostrazioni in acqua di riabilitazione. Grosso modo questo è il programma e l'obiettivo resta comunque quello dell'integrazione di queste figure professionali nel contesto dell'acqua, quindi nel contesto della piscina. Ed ora la politica. La Cassazione avrebbe deciso che in merito alla legge Severino la competenza spetti al giudice ordinario e non al TAR. Nel weekend è atteso il deposito della sentenza, una situazione che potrebbe avere delle ripercussioni, anche sulle prossime elezioni regionali in programma domenica 31 maggio. Domenica prossima si andrà a votare per le elezioni del nuovo presidente, del nuovo consiglio della regione Campania, ma in questo momento ancora non è chiaro se in caso di vittoria Vincenzo De Luca possa governare. La Cassazione, riunita in Camera di Consiglio, avrebbe infatti disposto che la competenza ad occuparsi della legge Severino e del giudice ordinario e non del TAR. E inoltre al consigliere relatore Stefano Petitti sarebbe stato richiesto di scrivere la sentenza e depositarla entro venerdì prossimo. Tuttavia non è detto che venga accolto questo invito, in quanto si tratta di un argomento molto complesso. La legge Severino prevede che il presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi denominati dalle unità sanitarie locali, che hanno riportato una condanna non definitiva, siano sospesi di diritto dalle cariche. E sarebbe questo il caso di Vincenzo De Luca in caso di elezione. Il 21 gennaio scorso infatti il Tribunale di Salerno lo ha condannato ad un anno di reclusione e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici per abuso d'ufficio in relazione alla nomina di un project manager per il progetto di realizzazione del termovalorizzatore di Salerno. In forza della Severino, il 23 gennaio De Luca è stato sospeso per 18 mesi dalle sue funzioni di sindaco di Salerno, nelle quali, tre giorni dopo, lo ha reinsediato però il TAR della Campania. La questione di competenza era stata sollevata dal Movimento per la Difesa del Cittadino dopo il reintegro del sindaco di Napoli, De Magistris, deciso dal TAR e sollevando in quella circostanza l'eccezione di costituzionalità decaduta dopo il verdetto della Cassazione. Di riflesso, la situazione ha toccato anche Vincenzo De Luca, la cui candidatura, governatore della Campania, ha portato la vicenda agli onori della cronaca nelle ultime settimane. Dall'entourage dell'Utiano, il messaggio è chiaro. Si pensa alle elezioni di domenica 31 maggio, poi successivamente verrà valutato cosa fare. In ogni caso, la decisione della Cassazione di assegnare la competenza al giudice ordinario e non al TAR, ha cambiato le carte in tavola e rischia di avere delle importanti ripercussioni anche sul voto di domenica. Incontro ieri presso l'auditorium di Eccellenze Campane per il candidato alla presidenza della Regione Campania e per il centrodestra Stefano Caldoro, che ha avuto la possibilità di confrontarsi con gli studenti e con gli insegnanti. Tema principale del confronto, la riforma della scuola. La scuola al centro dell'incontro a cui ha presenziato ieri il governatore uscente e ricandidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro. Presso l'auditorium di Eccellenze Campane, Caldoro ieri ha incontrato gli studenti, ma anche gli insegnanti, con cui ha potuto parlare di un tema caldissimo in questi giorni e che sta creando non poco malcontento nel mondo dell'istruzione. Il candidato alla presidenza della Regione Campania ha più volte ribadito il suo senso di responsabilità e l'impegno verso l'istituzione scolastica ed in particolare verso gli insegnanti e gli studenti, ammettendo di condividere la protesta degli stessi che vedono i loro diritti di lavoratori lesi da una riforma poco attenta alle loro esigenze. Una riforma, quella della scuola, come ha sottolineato lo stesso Caldoro, che va ad incidere profondamente su coloro che rappresentano la forza e l'essenza della scuola, senza però in alcun modo ascoltare la voce di chi quotidianamente la vive e di chi ne è il motore, impedendo quindi il confronto. E lasciando invece che protagonisti e attori principali di tale riforma siano stati coloro che la scuola non la vivono e non ne conoscono a fondo la realtà. Nel suo appuntamento presso la sede di Eccellenze Campane, Caldoro ha ripetuto più volte e con forza «Sto dalla parte degli insegnanti». «Sto dalla parte degli insegnanti, dalla parte di chi oggi protesta contro la riforma della scuola. Non si possono fare riforme che incidono sulla carne viva della scuola senza farla con il consiglio, con l'aiuto e soprattutto con il protagonismo di chi la scuola la fa. E quindi io sono dalla parte di chi la scuola la fa, degli insegnanti, quindi sono al loro fianco. Dal punto di vista anche concreto, ho avuto modo anche di fare una verifica con i parlamentari per andare al Senato a modificare profondamente questa riforma e soprattutto di ascoltare loro, di ascoltare la voce di chi la scuola la vive, gli insegnanti e tutti quelli che con loro fanno la scuola ogni mattina». Come annunciato, da oggi è possibile richiedere il prestito del fondo per il microcredito. 40 milioni di euro stanziati, messi quindi a disposizione dei richiedenti, divisi diversamente 30 milioni di euro messi dal Ministero dello Sviluppo Economico, mentre 10 milioni di euro dal Movimento 5 Stelle. Da oggi è possibile accedere al fondo per il microcredito che destina 40 milioni di euro ad automi, piccole e medie imprese, professionisti, singoli imprenditori che vogliono aprire un'attività. Ognuno potrà ottenere un prestito fino a 35 mila euro da restituire in 7-10 anni. La cifra è stata messa a disposizione in parti diverse dal Ministero dello Sviluppo Economico per 30 milioni di euro e dal Movimento 5 Stelle per 10 milioni di euro attraverso il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. Per accedere al fondo non sono necessarie le garanzie che di solito vengono richieste per un prestito bancario. Ogni persona che ne fa richiesta può ottenere un prestito fino a 25 mila euro che possono arrivare a quota 35 mila, prevedendo un'erogazione frazionata che subordina i versamenti successivi ai primi alle seguenti condizioni. Il pagamento puntuale dell'ultime serate è lo sviluppo del progetto finanziato attestato dal raggiungimento dei risultati intermedi che sono stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito. Il finanziamento viene restituito con un piano di rate trimestrali che dura 7 anni oppure 10 se il finanziamento riguarda anche progetti formativi. Il prestito è sempre finalizzato all'avvio di una nuova attività organizzativa in forma individuale di associazione, di società di persone, SR semplificato o cooperativa. Non possono accedere titolari di partita IVA da più di 5 anni o con un numero di dipendenti o collaboratori superiori a 5. Escluse anche le imprese che per dimensione rientrano nell'ambito di applicazione della legge fallimentare. Ed ora spazio alla pubblicità a tra poco per la seconda parte. Seconda parte dell'edizione serale delle Uno News riapriamo con una notizia legata ad Expo 2015. Questa mattina presso la sede della BCC di Buonabitacolo c'è stata la presentazione dell'iniziativa dedicata proprio ad Expo 2015 e finalizzata alla promozione dei prodotti tipici del territorio del Cilento e del Vallo di Diano, presentato anche l'opuscolo informativo e di promozione che sarà portato e distribuito alla manifestazione universale dedicata all'alimentazione. Si partirà a luglio con la promozione dei prodotti tipici locali e della dieta mediterranea Expo 2015. Questa mattina presso la sala conferenze della BCC di Buonabitacolo la presentazione del programma e dell'opuscolo informativo nel quale sono state raggruppate le diverse aziende produttrici delle tipicità locali che hanno aderito all'iniziativa promossa dall'Istituto di Credito di Buonabitacolo, dal Centro Studi per la Dieta Mediterranea e Angelo Vassallo in collaborazione con l'Associazione Laica e Radio Alfa. Tema del progetto Questa è la terra con il quale gli ideatori dell'iniziativa hanno cercato attraverso la raccolta dei prodotti agroalimentari del territorio di raccontare la storia e la cultura dell'area con le abitudini alimentari che la caratterizzano e che fanno registrare un alto tasso di longevità. Sono circa 22 le eccellenze riportate e presentate nell'opuscolo pubblicitario che sarà consegnato alla manifestazione fieristica universale Expo 2015. La dieta mediterranea, oggi attrattiva di primo piano all'evento internazionale, era ieri per i territori del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diana e Alburni, abitudini alimentare e rappresentava anche usi e consuetudini dell'agricoltura, come ha avuto modo di sottolineare lo stesso presidente della BCC di Buonabitacolo, Giovanni Rinaldi. Oggi è riconosciuto dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità, come sottolineato da Angelo De Luca, direttore della BCC di Buonabitacolo. Non potevamo, voglio dire, non dare continuità a quello che noi abbiamo sempre auspicato, cioè che la dieta mediterranea surgesse a livello nazionale, lo è già come patrimonio mondiale e adesso con questa visibilità che si ha tramite Expo, noi faremo in modo da portare le nostre aziende a Milano di modo da dare della visibilità dei prodotti di qualità che ci sono nella zona. Allora abbiamo deciso di aderire perché comunque è iniziativa planetaria a livello mondiale, quindi noi non possiamo non partecipare. La Laica è un'associazione di imprenditori e tra questi imprenditori si è sentita l'esigenza di andare almeno a visitare questa manifestazione. La banca di Buonabitacolo veramente è sempre presente in tutte le iniziative, quindi diciamo che non potevamo non essere presenti in questa perché poiché l'Expo è una manifestazione che si invernia tutta sul cibo e quindi sul fatto che nel mondo ci sono milioni di persone che muoiono di fame, allora la banca non poteva mancare perché è un argomento importante, è un argomento che riguarda non solo quelli che sono le vittime della fame, ma riguarda anche le imprese che poi debbono investire e poiché la banca e la banca del territorio non poteva non investire nel dare alle imprese la possibilità di partecipare a questa manifestazione dell'Expo. Abbiamo ripreso un lavoro complesso, difficile, di appropriazione di questo brand internazionale e quindi lo portiamo ad Expo come un'eccellenza della nostra bella realtà Cilento e Valoriano insieme che rappresentano la qualità nel mondo. Questo pomeriggio a Sant'Arsenio si è tenuta la prima delle cinque giornate dedicate alla programmazione sociale a cui sono stati chiamati a partecipare i giovani del territorio per migliorare la loro conoscenza e le loro capacità nel mondo del lavoro. L'iniziativa, fortemente voluta dall'Associazione Montepruno Giovani con il fondamentale supporto della Banca Montepruno punta a valorizzare i giovani del territorio a renderli grandi eccellenze lavorative favorendo in tal modo l'occupazione. La necessità di avere personale altamente formato e in grado di proporre e portare avanti idee progettuali che possono garantire e consentire anche uno sviluppo diventa oggi fattore primario e indispensabile. Altrettanto importante è essere in grado di integrarsi con rapidità ed essere in grado di rispondere con immediatezza alle esigenze lavorative e richieste. Il corso è stato indetto proprio a supporto di queste nuove esigenze del mondo lavorativo affinché i giovani del territorio siano formati per le richieste del mondo del lavoro in continua e rapida evoluzione. La prima giornata ha preso il via con i saluti del direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese e del presidente dell'Associazione Montepruno Giovani, Giuseppe Nese. E cambiamo argomento. Il prossimo 3 giugno ci sarà a Teggiano la festa di San Cono e in occasione delle celebrazioni in onore del Santo Protettore è stata installata una webcam sulla cattedrale per dare la possibilità a chiunque non risiede a Teggiano o ai tegianesi che non possono rientrare in patria per queste celebrazioni di potervi assistere attraverso la diretta streaming. Una webcam già attiva riprenderà la festa di San Cono a Teggiano. Il prossimo 3 giugno, festività in onore del Santo Protettore non solo di Teggiano ma dell'intera Diocesi, celebrazioni attesissime in onore del Santo Vissuto nel 1100 con il culto riconosciuto nel 1871 e la festività fissata al 3 giugno. Di San Cono si conosce poco tranne che per la giovanissima età in cui decise di dedicarsi a Dio scappando nel convento di Cadossa tra Padula e Montesano. Tutta la storia è raccontata attraverso uno scritto risalente al 1800 e tramandato fino ai giorni nostri in dialetto tegianese. Le celebrazioni dedicate a San Cono ricadono in tre date prestabilite. Oltre al 3 giugno, che è la festività solenne, i devoti del Santo si riuniscono in importanti festeggiamenti a Teggiano anche il 27 settembre in ricordo della traslazione dei resti di San Cono dal convento di Cadossa a Teggiano dove un'edicola ricorda il momento e i luoghi dove, si racconta, si siano fermati i buoi che trasportavano i resti del giovane monaco. E poi il 17 dicembre, data che i tegianesi dedicano le celebrazioni di San Cono e San Laverio dopo lo scampato pericolo del terribile terremoto del 1857 e di quello del 1980. Ad agosto, e precisamente la seconda domenica del mese, la comunità di Teggiano si sposta nell'area dell'ex convento di Cadossa dove, si racconta, il giovanissimo Cono si rifugiò e dove dedicò la sua vita a Dio. Ma la principale ricorrenza che raccoglie un notevole flusso anche di turisti provenienti da diverse aree della provincia sud di Salerno è sicuramente la ricorrenza del 3 giugno. In tale data, Piazza San Cono si riempie di persone fedeli che arrivano per partecipare ai festeggiamenti civili e religiosi in onore del Santo. Quest'anno, una nuova iniziativa promossa dall'amministrazione comunale e dall'assessore Vita Antonio Cobucci consentirà di partecipare ai festeggiamenti anche a chi non potrà per motivi di distanza o per altre ragioni raggiungere Piazza San Cono in onore del Santo Protettore della Diocesi di Teggiano Policastro. Sul campanile della cattedrale infatti l'assessore Cobucci ha fatto installare una webcam attiva già da diversi giorni che consentirà a chiunque di partecipare seguendo le immagini e l'audio delle celebrazioni religiose con l'affurlatissima processione e la festa civile della sera. La telecamera è puntata sull'intera piazza raggiungendo anche l'obelisco di San Cono. Per chi volesse approfittare dell'iniziativa sarà sufficiente collegarsi al sito web www.skylinewebcams.com La ricerca della web installata a Teggiano è semplicissima utilizzando il percorso nuova oppure effettuando la ricerca attraverso la nazione e la regione. Domenica scorsa grande partecipazione per il raduno di auto d'epoca promosso e organizzato dall'associazione Il Percorso è partito proprio da Sala Consulina entusiasmo molto diffuso tra i partecipanti a questa iniziativa. Domenica scorsa raduno di auto e moto d'epoca organizzato dall'associazione Il Percorso un'intensa giornata che tantissimi partecipanti all'evento hanno dedicato alla loro passione per le auto storiche ma anche alla condivisione di momenti di serenità e divertimento attraversando il Vallo di Diano e godendo delle bellezze paesaggistiche che difficilmente vengono notate nella frenetica vita quotidiana di oggi Il gruppo composto da oltre 70 autovetture storiche è partito da Sala Consulina nella mattinata nei pressi del parcheggio del Palazzo Quattrotorri i partecipanti al raduno si sono riuniti per dare inizio alla giornata dopo la registrazione ogni autovettura è stata posizionata su una rampa per una foto ricordo della giornata a seguire il fotogruppo messo insieme dall'associazione Il Percorso è partito per la gita mattutina attraversando Sassano Teggiano San Rufo San Pietro Altanagro Atena Lucana Scalo e quindi il centro storico di Atena Lucana con una breve pausa dove i partecipanti hanno avuto modo di effettuare un primo momento di aggregazione intorno ad un aperitivo allestito sul punto raccolta Il corteo è quindi ripartito andando ad attraversare nuovamente Atena Lucana Scalo e San Pietro Altanagro quindi Sant'Arsenio e Polla fino a raggiungere il Borgo Lucano per il pranzo di chiusura del raduno è davvero una bellissima iniziativa ha sottolineato Nicola Memmoli partecipante al raduno con la sua auto ed è stata una giornata che ha permesso a tutti noi di riunirci e anche se solo simbolicamente di fermarci per socializzare e per divertirci in gruppo cose oggi difficili per la vita frenetica che caratterizza ognuno di noi e di questo ringrazio gli organizzatori ridere e scherzare e attraversare il Vallo di Diano in serenità ha concluso Nicola Memmoli permette anche di apprezzare e guardare con occhi diversi il nostro territorio che altrimenti difficilmente apprezziamo al termine della giornata l'associazione Il percorso ha omaggiato tutti i partecipanti della foto ricordo e di un trofeo Termina qui l'edizione serale dell'Euno News vi ricordo che domani dalle 7.10 la rassegna stampa tutti gli approfondimenti invece sul nostro sito web www.unotvweb.it io intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata www.unotvweb.it 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 www.unotvweb.it